Ciao, stiamo vedendo il vulcano, l'area di Crafla, alle ore... 10.30 o 11.30? No, è 11.30. E' 11.30. Eccole qua, 11.30 del 5 di luglio. Vabbè il mio orologio non è giusto sul 5 di luglio ma ci siamo. Il sole sta scomparendo dietro questa montagna. E qua sotto c'è il lago Mivatn con i suoi fumi di... cioè i suoi vapori. Eccolo, con gli pseudocrateri che abbiamo visto ieri con la pioggia. E la terra tutta illuminata. E qua sotto abbiamo l'automobile con gli scancanessi a palla, finalmente. che ho orecchie per intendere. Allora... Allora...